Si apre uno spiraglio nella vicenda della Nuovo Legno di Arcella, soprattutto per quanto riguarda il prolungamento della cassa integrazione e ormai gli sgoccioli dei suoi 118 operai. A dare la notizia attraverso il suo profilo Facebook è il sottosegretario del Ministero dell'Interno, Carlo Sibilia, da mesi impegnato sulla vertenza che ha incontrato più volte delegazioni dei lavoratori dello stabilimento del gruppo Fantoni. L'ultima volta, proprio al termine della visita all'IA di Flumeri, a fine febbraio, insieme al Ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Per la Nuovo Legno, dice Sibilia, è possibile accedere alla cassa integrazione per Covid-19. Ringrazio il Ministro Nunzia Catalfo per la sensibilità e il pronto interessamento. Un altro spiraglio si apre per i dipendenti in difficoltà. La dirigenza è già stata contattata dal Ministero del Lavoro. Ai lavoratori avevamo promesso che non ci saremmo dimenticati di loro. Forza. Così, il sottosegretario, che lascia intendere come l'azione del titolare del Dicastero del Lavoro e delle politiche sociali, sia già in stato avanzato. A questo punto, il gruppo Fantoni, che ha chiuso di punto in bianco l'attività sul territorio del Comune di Montefredane per andare a investire milioni di euro altrove, e in particolare ad Osoppo, sede dello stabilimento principale, non resterebbe che firmare. Vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda e se gli operai della Nuovo Legno avranno una boccata di ossigeno in attesa di un progetto concreto di riconversione della struttura, magari in un grosso centro di riciclo di materiali derivanti dal legno.